Un'indagine della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Napoli, ha portato in carcere l'imprenditore di Lesil Salvatore Musella, Nicola Oddate, all'epoca dei fatti componente della Direzione Nazionale del PD, ex assessore del Comune di Napoli ed attuale dirigente della Regione Campania, e l'ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, già coinvolto in un'altra analoga indagine, nonché l'ex presidente dell'Enit, Giorgio Palmucci. I reati ipotizzati a vario titolo sono concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. Undici in tutte le misure cautelari. Ai domiciliari due collaboratori di Musella, obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria invece per altre cinque persone. Secondo l'accusa Musella, Figliolia, Oddate e Palmucci, insieme con alcuni degli altri indagati, si sarebbero adoperati per agevolare l'assegnazione dell'appalto, facendo avere preventivamente a Musella tutte le informazioni necessarie per vincere la gara. In cambio avrebbero ottenuto varie utilità, a vario titolo, posti di lavoro, denaro, vetture per l'uso personale, abiti sartoriali, soggiorni in hotel e ristrutturazioni edili per la compagna di Oddate. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati sequestrati anche diversi documenti Word ed Excel, ritenuti una sorta di contabilità segreta. Nei file, uno denominato Natale 2020, vengono indicati nominativi di persone, enti pubblici e regali, come bottiglie, buoni outlet da 500 euro, pc e cellulari. Nell'ordinanza la vicenda viene sottolineata con parole eloquenti. È emerso uno spaccato di disinvolto malaffare, radicato intorno al comune di Pozzuoli e in altri luoghi, per assicurare corsie preferenziali nella aggiudicazione di appalti pubblici. Da sottolineare che l'importante appalto è saltato proprio grazie all'indagine, approfondimenti investigativi sempre a Pozzuoli, inoltre per la progettazione e la realizzazione di un parcheggio multipiano. In una intercettazione dell'ottobre 2021, in cui a parlare è figliolia, l'ex sindaco spiega al suo interlocutore che il parcheggio per Mosella è solo una piccola parte di un piano più ampio. In quel parcheggio, e poi stato accertato da finanzieri e poliziotti, è emerso che erano state assunte dalla società riconducibile a Mosella persone segnalate dall'ex primo cittadino di Pozzuoli.